ciao a tutti ragazzi adesso sto entrando insieme a Manuel in questo negozio di dolciumi e tra l'altro ci sono anche patatini e ci sono altre cose ovviamente non è un video sponsorizzato ma puramente amatoriale infatti ho dovuto chiedere il permesso prima di farlo me l'hanno dato soltanto che dovrò sfocare i volti almeno i principali soprattutto che qui che lavorano qua non devono apparire quindi però a parte questo posso farlo vedere allora ad esempio vedete qui ci sono varie tavolette di cioccolata di vario genere eccolo qua anche qua il pistacchio e così almeno guardate qua guardate che bello questo è veramente un bel negozio non vi dico qual è il nome perché manco lo so eccomi qua qui c'è veramente l'imbarazzo della scelta di quello che si può comprare vedete qua quanta roba che c'è guardate qui cioccolatini di ogni tipo ok così mi vedo anche io così tramite eccolo qua guardate quanta roba buona che c'è da mangiare qua quanto costa qua quanto costano questi prodotto in offerta 4,99 insomma 5 euro no qua non si entra più ed eccoci qui allora voglio sapere se a voi piace questo video se vi piacciono tutte queste cose qua sono curioso che cos'è questa roba qua cos'è questa roba qua in realtà non so che cos'è è un chat chips ed eccoci qua che esco fuori ringrazio questo negozio che mi ha permesso di fare questo video io a Manuel me lo sono perso io a Manuel me lo sono perso e dove si trova? non lo vedo ah eccolo qua Manuel eccolo qua olè lui mangia no io invece non mangio niente almeno per oggi così e così e così almeno avete visto anche questo negozio e quando ci danno il permesso di fare questi tipi di video non li facciamo perché sappiamo che comunque a molti di voi piacciono ma anche per un altro motivo perché ho visto che quel negozio era davvero bello vedere tutti questi dolci patatine tante cose sfiziose come ripeto è un video puramente amatoriale non è sponsorizzato quindi non mi ha pagato nessuno per fare il video ma è solo così per intrattenimento e basta giusto Manuel? confermo appena ok e adesso cos'è che possiamo fare? adesso ci possiamo rilassare un pochettino qualche sedia se la troviamo e così ci riprendiamo un pochettino più che altro ci soffermiamo un po' sul posto valutiamo un pochettino il pomeriggio così particolare e su cosa fare le prossime volte cosa fare ovviamente e pensare cosa faremo le prossime volte e così almeno vediamo un po' come vedete anche all'interno già così noi stiamo al calduccio e tra l'altro vi possiamo far vedere tante cose poi altri poi ci sono altri centri commerciali che poi possiamo visitare in futuro non lo so e chi lo sa e magari speriamo che altri negozi ci permettano di fare altri video adesso termina qui questo video mi raccomando se non l'avete fatto iscrivetevi lasciate un like attivate la campanella per tutte le notifiche per i video che arriveranno in futuro e mi raccomando condividete anche il video in questo modo almeno così insomma le altre persone ci potranno conoscere e questo canale potrà crescere e questo grazie a voi e anche grazie al nostro impegno io vi saluto insieme a Manuel e ci vediamo nei prossimi video ciao a tutti sì